Che bello, che bello! Oggi modalità di Roblox dove bisogna succhiare che il succhiere più cazzi vince! Mi piace di brutto! Non è più bravo! Allora, abbiamo questi sbo-er-ti che sono il teco e la sbo-er-a. Due...ah, questa. Oh, sto succhiando due volte di più, figo! Ma non solo, ho visto che c'ho anche la sbo-er-a con un po' di acido. Che bello! Oh, è tempo di pagare! Oggi si scioppa! Allora, ci sono i booster e io mi prendo il booster con la sbo-er-a. Non esagerare! Ti so, ma io direi di prenderlo. Lo prendiamo! Ho preso. Non mi sono saputo regolare oggi, eh. Siamo tutti, infatti... Allora, ho preso, adesso ho preso il gusto sbo-er-a blu. Infatti, la sbo-er-a adesso, vedete, è tutta blu. E posso anche arrivare ad averne di più perché ho la tazza più grande. Andatevi a prendere la vostra sbo-er-a preferita. E per oggi, Lion e la gang del Boba out! Ciao!